Debora Artuso, assessore alla cultura del comune di Statte. L'autonomia di Statte, di questo comune non è un fatto meramente amministrativo, ma sottolinea, conferma l'identità culturale, storica, con le sue tradizioni della comunità statese. Statte pur essendo una comunità relativamente giovane ha comunque un substrato culturale molto stratificato, è un attivismo dal punto di vista delle associazioni davvero raro e infatti molte di queste iniziative che stiamo portando a compimento vengono proprio dal tavolo dell'autonomia, che è un tavolo che è stato allestito proprio con i soggetti, le associazioni, i privati che hanno voglia di scrivere insieme all'amministrazione una pagina che non è di commemorazione, è proprio di celebrazione di questo evento che è per noi stato fondante. Molto è stato fatto in questi 25 anni, c'è da fare naturalmente, però poter essere protagonista della propria storia è sicuramente quel dato che ci dà la forza e l'entusiasmo di essere qui in piazza e di riempirla appunto con questi colori giallo-verde. Grazie